Vai via! Salar Livius è ancora chiaramente in evidenza, Salar Livius a centro pista, fa i buchi per terra e lì disperde. Al secondo posto Lord Money, mentre per la terza moneta mordente di dentro rispetto a Dimelde, Civa Sandau. Da circoletto rosso in chiusura di giornata Salar Livius e Sergio Urru che largheggiano a piacimento in un arrivo veramente terribile. Il signor resta ai colori, il signor Caravati al training. Grazie. 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 Grazie.